Ok, tocca nero. Allora, la situazione è un pochino più complessa di quella che avevamo visto, però in qualche modo si riusce a ricondurla a quella, perché abbiamo un gruppo qua, quindi un gruppo forte qui, un altro gruppo qui. Diciamo che questo è forte, qui c'è un'estensione, ci si potrebbe invadere qua. Un altro gruppo forte qui. Anche qui si può invadere in qualche modo, diciamo questo chiude bene l'angolo, questo già di meno. Però, diciamo, di solito è prematuro andare a invadere così, prima ci vorremmo un po' di aiuti attorno. Anche qui, questa di suo è forte, come abbiamo visto. Insieme a questa protegge molto questa zona qui. Qui, diciamo, possiamo pensare che questo non sia un po' forte. E possiamo pensare che magari il nero potrebbe andare a invadere qui. Per cui ci potrebbe essere un'invasione qui, un'invasione lì. Ma, se lo guardate, c'è un'intera zona del gobank, nonché è vuota ed è molto più grossa. Per cui adesso, devo dire, 3, 4, 5, 6, 6 mosse ciascuno, tocca nero, dove gioca via. Sicuramente su quel lato lì. Ok. Però c'è da chiedersi se fare una mossa sicura del tipo qua, o se allungarsi di più. quale delle due, perché allungandosi si rischia il taglio. Però si prende anche i punti. Però c'è da dire che allungandosi, se uno viene tagliato qua, può ritentare di correnettersi di nuovo a questo gruppo e tentare di fare un'influenza qua. Sì. Io ho raggiunto direttamente qui. Allora. E' un po' troppo vicina all'unico di bianco. Dubito che ha simile il dolore che amo lui. Non so se fosse anche bianco. Ne li pizze, ne soglia, ne. Bisogna direttamente qua, diciamo che è stato anche lì. Vabbè, se scatto bianco stende, si fa una base, è l'unico gruppo un po' debole mio. E mi piace poco. Per cui magari voglio andare a pinzare un po' di bianco. E questa mossa di nero mi fa pensare che magari è qui come una stava più basso. Anche questa, poi, c'è una continuazione qui. Che si può... Proverà a fare un po' di giocattico attorno, proverà con l'aria. E' vero che se vuole il bianco ha qualcosa di questo genere per impedire la collegamento. Però vabbè. Una pinza e poi dopo bianco, però appunto potrebbe salire, potrebbe giocare qui, ma questa rimane un po' più isolata. Soprattutto, la differenza grossa tra queste due e questa, è che questa è più vicina al gruppo forte, a quanto non siamo queste due. Perché il gruppo forte è quello, quindi c'è ancora un po' di spazio. Quindi comunque mi sembra un po' peggio per nero. Ma anche se poi si tenta di fare questo collegamento. Sì, per carità. Perché facendo... Questa prepara un'invasione qui. Quindi non premetto, anche per la telecamera. Non so se sia questo un modo migliore di controbattere la telecamera. Però mi sembra che queste due pietre nere comunque siano più nei guai di quanto non sia questa. Perché, ok, queste sembrano comunque in mezzo a qualcosa di nero. Ma, diciamo, il bianco circonda di più queste due nere e quanto il nero non circonda di queste due bianche. Non fosse altro perché tutto lo spazio che c'è attorno a queste, mentre li spazio attorno a nero c'è di meno. E poi, se questa è una buona mossa, dà la possibilità bianco di liberare e di invadere qui. Quindi, non è che ci parli da partire, diciamo che la rende interessante. Allora, iniziano un po' i combattimenti. Però, dà una posizione che secondo me è leggeramente migliore al pò bianco. La cosa migliore è allungare la metà qua. Diciamo, le posizioni sono ugualmente forti. E non si sta parlando di una sola pietra. Allora, io vengo qui e se bianco mi inizia, io comunque mi inizia in qualsiasi modo. Come qualsiasi di questi incroci. Ancora, vabbè, riesco a vedere la mia pietra di quella. E non sono eccessivamente preoccupato. Perché comunque ho dello spazio qui. C'è una certa differenza comunque tra avere la mia pietra di quella. Perché se sono nei guai qui, ho dovuto fare qualcosa del genere, volevo. Ma, vabbè, no adesso, è chiaro. Però, ho anche una base d'emergenza per il futuro. Questa me la lascia di me. Per cui, facendo così, allora, se toccassi a bianco, giocherai a bianco. Se andate là vicino, di nuovo non va tutto bene. Se tocca nero, comunque, è meglio qui. Mi sicuramente provare una linea più in alto. Sì, volendo. Però, è chiaro che lasci un po' più facile di immaginare qui. Con la linea più in alto, dici, non voglio fare più intorno qua. Voglio fare qualcosa per il resto del gomma. che può anche essere l'idea. Solo che da questa parte del gomma bianco è abbastanza forte. Potrò avere quello che ha fatto anche bianco, è stato meglio l'unica di questo. Sì, può essere. Diciamo che questa funzionerebbe bene con un'altezza. Eh, con il preso che mi ha fatto un'altezza. Perché così è troppo piatto. Mentre questa è più panciuta e sembra promettere meglio. C'è un'altezza che mi stende e minaccia l'invasione qui. Questa avrebbe minacciato il nero. se non sono così. Se non sono così. il mero può sonire anche così. C'è poi un po' di questa che minaccia incollegata l'uomo. Però... deve soffrire un po'. Cioè, c'è nero in qualche modo setare. Un po' anche di riferire. Inizia a me, suottami. Grazie a tutti.